Un incontro intenso e commovente nel segno della preghiera e della speranza. L'abbraccio tra Papa Francesco e la comunità assirocaldea nella piccola chiesa di San Simone, Bar Sabè, ha chiuso la prima giornata del Pontefice a Tiblisi. Tra quanti hanno patito le persecuzioni e la violenza inaudita di cui è capace l'uomo, il Pontefice ha levato orazioni per il Figlio di Dio, affinché vinca la durezza dei cuori, prigionieri dell'odio e dell'egoismo, conforti le vittime innocenti, bambini, gli anziani, i cristiani perseguitati e le persone abusate, private della libertà e della dignità, ed ancora gli esuli, profughi, chi ha smarrito il gusto della vita. Signore Gesù, ha concluso Papa Bergoglio, stendi l'ombra della tua croce sui popoli in guerra, imparino la via della riconciliazione, del dialogo e del perdono, fa gustare la gioia della tua resurrezione ai popoli sfiniti dalle bombe, solleva dalla devastazione l'Iraq e la Siria. Grazie a tutti.